Ieri una sparatoria in pieno giorno in via sedile di Porto, proprio alle spalle dell'Università Federico II di Napoli, al Corso Umberto. Questa mattina, a pochi chilometri di distanza, in via Pietro Colletta, gli agenti della questura di Napoli sono intervenuti perché ignote hanno esploso diversi colpi di pistola contro una macchina parcheggiata in strada. Sei proiettili calibro 9, sparati tutti all'indirizzo della stessa vettura, di proprietà di una donna, titolare di un'agenzia di viaggi e residente nelle vicinanze, incensurata e senza legami con la criminalità organizzata. Un errore l'obiettivo del raid, secondo la polizia intervenuta sul posto, resta comunque la gravità dell'episodio e la paura tra i residenti per l'ennesima sparatoria, che a tutti i tratti di un'intimidazione. Il ripetersi di questi episodi ha messo in allarme le forze dell'ordine napoletane che stanno intensificando i controlli in tutto il centro storico. L'ultimo raid armato era avvenuto poche settimane fa, sempre a due passi da forcella, quartiere da tempo rinomato per la presenza di clan della Camorra, che si contendono il controllo delle attività illegali della zona. Non c'è pace per gli ammalati di tumori nella regione Campania, l'illise di attesa troppo lunghe considerando la gravità delle patologie. All'Istituto Tumori Pascale i sindacati denunciano una situazione di immobilismo e chiedono interventi urgenti per ridurre i disagi agli ammalati. L'attesa per un intervento chirurgico di tumori al colon può essere anche di due mesi, di 50 giorni invece per un intervento di tumori all'utero. Così Mauro Esposito, coordinatore della Villa di Settore. Sostanzialmente chiediamo un immediato abbattimento delle liste d'attese per consentire di poter dare delle certezze a coloro i quali sono in lista d'attese e quindi speranzosi di una risoluzione ai problemi legati alla malattia oncologica. Chiediamo un'immediata assunzione nel rispetto delle regole di personale infermieristico, tecnico e operatori sociosanitari. Preoccupato anche il dottor Antonio Marfella. Già nel 2012 il peso dei costi dei beni e dei servizi era superiore al 45% del bilancio rispetto a quello del personale. Sintesi totale. Siamo arrivati e occorre fare delle scelte che sono scelte strutturali ad avere siringhe piene di farmaci ad alto costo per esempio e non abbiamo gli infermieri per farle. Qua stiamo parlando di problemi strutturali, cioè io non posso decidere di curare tutti soltanto dando farmaci se non recupero il bisogno di infermieri che per me è indispensabile perché non si cura solo con i farmaci ma credo che non si possa continuare a supporre di poter pensare di curare la gente senza medici, senza infermieri oppure accusando i medici o gli infermieri di assenteismo quando, e l'abbiamo dimostrato in questi anni, noi siamo stati probabilmente la struttura sanitaria non solo di eccellenza come qualità ma quella anche più vicina ai bisogni e alle esigenze delle persone come abbiamo dimostrato per esempio sulla questione terra dei fuochi. Quindi il problema vero è strutturale, affrontiamo il problema strutturale e cominciamo a coprire le emergenze che sono quelle del bisogno assoluto di personale ovviamente innanzitutto non medico ma soprattutto infermieristico e poi decidiamoci se è una questione di filosofia cioè se abbiamo bisogno di una sanità pubblica o di una sanità privata e se vogliamo privilegiare esclusivamente la ricerca o l'interesse privato o il farmaco o vogliamo continuare a pensare che bene o male quei farmaci devono essere somministrati da personale adeguato e competente. I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di nove soggetti indagati per aver commesso i reati di corruzione, peculato, abuso d'ufficio, falsità ideologica e rievelazione del segreto d'ufficio. Cinque soggetti indagati sono gli ex accertatori e mandatari della CIA e della circoscrizione di Castellammare di Stabia e di Sorrento. Gli altri quattro sono imprenditori alberghieri e musicisti coinvolti nella vicenda giudiziaria. Le fiamme gialle hanno inoltre sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per spropriazione su disposizione del Tribunale beni mobili e immobili e disponibilità finanziarie nei confronti di due ex accertatori CIA e dei loro rispettivi familiari per un valore di circa 2 milioni di euro, capitale accumulato in seguito alle attività illecite. Le indagini di polizia giudiziaria hanno avuto inizio nel maggio del 2012 e hanno consentito di ricostruire un sistema criminoso ben radicato nel territorio stabiese e sorrentino nella gestione delle attività di accertamento e riscossione del diritto d'autore nonché il coinvolgimento di numerosissime strutture ricettive presenti nei comuni di Castellammare, Gragnano, Sant'Antonio Abate, Rimonte, Agerola, Lettere, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento e Massa Lubrenza. Prima di vedere gli e-book al posto dei libri di carta nelle scuole campane dovrà passare ancora del tempo però la rivoluzione digitale è già in atto e vede l'Italia ancora indietro rispetto al resto d'Europa. Recuperare terreno è l'obiettivo di OLE 2.0, il festival internazionale della letteratura elettronica presentato questa mattina nella sede del Palazzo delle Arti di Napoli. Qualche particolare in più lo ha svelato il project leader di OLE 2.0, Lello Masucci. La letteratura elettronica è un modo di concepire il digitale come lingua e se il digitale è l'elettronica come per esempio il video che voi state facendo è una lingua possiamo parlare di letterature attraverso il digitale, l'uso del digitale e l'uso dei video, degli audio, del sonoro e questo modo di pensare ha prodotto nel mondo una serie di poeti digitali, poeti elettronici scrittori che hanno scritto dei libri che improvvisamente diventano film poi diventano uno spazio vivibile fisicamente con la realtà aumentata insomma questo è, in parole povere, la letteratura elettronica. Il festival, giunto alla seconda edizione, coinvolgerà le scuole elementari del territorio aiutandole a comprendere le nuove strumentazioni digitali che saranno presto al servizio degli studenti l'assessore alla cultura della regione Campania, Caterina Midaglia spiega come il governo locale ha operato in questo settore negli ultimi cinque anni La scuola si è fatta tantissimo, per la scuola sono state spese molte risorse proprio perché la scuola potesse essere più moderna e anche digitalizzata non vorrei tornare all'elencazione di tutte quelle che sono state le azioni ma sicuramente sono state spese più di 400 milioni per dare alle scuole, dalle lim, dalle lavagne a tutti gli strumenti necessari ma prima tra tutti poi è stata la grande operazione della banda larga che è stata fatta dalla regione Campania quindi in questo senso anche se non viene riconosciuto la Campania è avanti è sempre poco rispetto al mondo che va avanti ma è tanto rispetto ad un'Italia che declina competenze e cerca di offuscare l'immagine di una regione che invece è molto più avanti L'associazione musicale Maggio della Musica presieduta da Luigia Baratti ha presentato la diciottesima stagione concertistica e il programma per la direzione artistica di Michele Campanella propone 18 concerti divisi in due sessioni quella primaverile per la prima volta al Salone Margherita allo storico Café Chantan napoletano che per l'occasione diventa un concerto house e quella autunnale presso la chiesa anglicana del capologo Campano Una bellissima stagione che ha questa nuova sede non so se sarà provvisoria, questo non mi riguarda ma voglio solo dire che è un luogo che affascina il pubblico dalle prime reazioni che io ho avuto la gente è molto interessata a venirci devo dire che siamo noi che siamo molto curiosi di capire se questa sala funziona per la musica classica che è una novità per questa sala le novità di quest'anno sono l'inizio del Festival Brahms che farà ascoltare al pubblico napoletano tutta la musica da camera scritta da Johannes Brahms con la partecipazione del grande quartetto della Scala e con tutti gli altri musicisti di scuola napoletana una cosa tutta italiana a cui io tengo molto perché suonare Brahms, suonare la musica alla camera di Brahms è uno degli impegni più difficili e più importanti per i musicisti secondo la leggenda la Yanara dal latino Yanwa cioè porta quando trova del sale davanti ad una casa dove sta cercando di entrare è costretta a contarne i granelli così perde tempo e nel frattempo sorge il sole la Yanara strega della tradizione beneventana che si insinua di notte nelle case per rapire i bambini sta facendo pian piano visita nei cinema di tutta Italia dopo il successo ottenuto a Benevento da oggi l'horror movie Yanara arriva nelle sale di Napoli Avellino Caserta e Frosinone così il regista Roberto Bontà Polito il film non è un vero e proprio horror appunto è un noir con sfumature thriller e alcuni accenni all'horror fatto a Napoli sì fatto a Napoli soprattutto da una società giovane come la Varga che praticamente ha investito su un giovane regista questa per me è un'opera prima è frutto di un viaggio fatto in caravan circa dieci anni fa appunto tra il comune di Guardia San Framonte e San Lupo nel quale appunto una vecchietta del paese mi raccontò improvvisamente quasi per strada la storia di questa Yanara il termine Yanara è molto usato a Napoli ma effettivamente poche persone sanno che cos'è la Yanara è l'origine appunto proprio della parola l'etimologia della parola e questo è stato il motivo per il quale poi ho deciso appunto di prendere questa storia che è tratta dalla mia vita personale e cercarla di farla andare sul grande schermo grazie all'aiuto della Vargo Film e di tutto il cast tecnico e artistico che ha contribuito al progetto interprete una grande Rosaria De Cicco secondo me questo film realizza la possibilità cioè fa capire che anche in Italia è possibile affrontare dei temi noir e horror in maniera però non immaginifica o più tra virgolette dico finta come possono farlo in America in America ci hanno tanti mezzi e hanno la possibilità di fare le streghe eccetera eccetera però noi abbiamo i luoghi abbiamo le tradizioni abbiamo la verità sui misteri per cui questa cosa non ce la può togliere nessuno e nel momento in cui si trovano registi e produttori coraggiosi che affrontano questo argomento anche con pochi mezzi insomma non abbiamo i mezzi dei colossal ma riescono a rendere quell'atmosfera ebbene secondo me è una sfida che non soltanto una produzione ma anche un attore ben lieto di accettare partecipando ad un'operazione del genere grazie grazie